Ai ragazzi si possono chiamare i parchi cartonati, componibili in modo tale che possono fare dei lavori di gruppo in classe con la guida dei professori che hanno qui accompagnato i ragazzi e durante l'anno scolastico, in piena autonomia ha potuto combinare le varie situazioni che lì vediamo rappresentate, questi 17 dividiti dell'ONU che l'amministrazione con il contributo preziosissimo della STEA ha realizzato per i 5 istituti scolastici di Omosco quindi io inizierei dall'istituto, comprensivo Trillini, abbiamo la professoressa Argentina Severini e Chiara Perin e inizierei la piccola delegazione di studenti con loro che le accompagnano per una foto con i relatori e io accanto agli obiettivi dell'ONU, poi all'uscita gli consegneremo questo sit quindi ecco per il nostro sito va qua e sopra, mi dai, vieni per parlare noi vogliamo andare avanti insomma davanti insieme, non potresti anche di uno, sei insomma vai in radio, non voglio provare non potresti non potresti non potresti davanti, non potresti non potresti, non potresti, non potresti metto l'onu ma anche l'amministrazione, faccio l'amministrazione dietro i bambini dietro i bambini foto, 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 foto mia qualcuno ha fatto una foto è come la foto del popolino la foto, bene Alberto, ecco perché spero di capire Alberto fa la foto devo fermare il video e fare una foto ma è la foto la foto è come si può guardare